Allora, come consigliava l'amico tenore, sto facendo dei lavaggi, adesso voi lì non lo vedete, però avevo messo 95 gradi, 95 avevo messo come consigliava lui, e lo sto facendo con il liquido della lavastoviglie, e devo dire che già la pussa si è dimezzata, quindi grande grande consiglio di tenore questo nostro utente che segue il canale, gran idea, quindi ricordiamoci i lavaggi a 95 gradi ogni tanto, a vuoto, con liquido magari dalla lavastoviglie, questo è un po' il primo step, avete capito signore, che anche voi magari avete la lavatrice che puzza di merda come la mia? Non basta pulire solo la guarnizione, perché noi con i lavaggi a bassa temperatura, sicuramente non roviniamo i capi, però si annidano i batteri di merda, eh? Grazie tenore!